Da oggi niente nido materna per i bimbi non vaccinati in base alla legge Lorenzin, mentre per le elementari e le medie scatta una sanzione pecuniaria per i genitori degli alunni non vaccinati che frequentano la scuola. In Abruzzo la copertura vaccinale si attesta intorno al 95%. Siamo con la professoressa Santilli, che è dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 2 di Pescara. Le chiedo innanzitutto qual è la situazione a tutt'oggi. A tutt'oggi la situazione della mia scuola, però posso far riferimento anche alle scuole dei colleghi, perché ieri abbiamo avuto un incontro, è una situazione abbastanza sotto controllo. Noi dirigenti faremo quello che la legge ci dice, per cui i bambini della scuola dell'infanzia e dei nidi che non sono vaccinati non possono continuare la frequenza a scuola. Invece per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dobbiamo inviare i nominativi alla ASL di Pescara, che provvederà per propria competenza. Perché ci sono delle sanzioni? Sì, sono previste delle sanzioni pecuneare da 100 a 500 euro. Credo che la media si allinea con quella nazionale del 95%. È prevista una proroga? Non sappiamo. A tutt'oggi non è prevista nessuna proroga. I genitori vengono a sottoporle dei quesiti? A volte sì, ma a volte siamo anche noi in scuola che dobbiamo sollecitare, ricordare alcune cose. Quindi la scadenza, perché molti ci hanno presentato delle certificazioni e poi dobbiamo sollecitare per avere indietro la documentazione. Però noi come scuola sul territorio siamo aperte e disponibili ad accogliere le richieste dell'utenza. Insomma, c'è ancora un po' di confusione, forse? Forse, forse. Dipende poi anche da come le situazioni vengono gestite. È chiaro che da parte dei genitori che sono convinti di non vaccinare, lì c'è poco da fare. Però sono scelte personali e quindi poi ciascuno si assume le proprie responsabilità.